La prudenza permette principalmente di prendere in ogni circostanza la buona decisione, di scegliere l'azione o lo strumento che contribuiranno meglio alla felicità. Vista l'infinità potenziale delle circostanze che circondano ogni azione, la simile scelta pre-richiede spesso molta investigazione, scoperta, confronto, discernimento quanto a ciò che conviene meglio ic e nunc, qui e ora. Ciascuna di queste tappe comporta le sue difficoltà proprie, di modo che certe virtù appropriate sono necessarie per riuscire senza troppa pena, troppa pena. Queste virtù ausiliari della prudenza si rattaccano a lei come le sue parti potenziali. Così la virtù di deliberazione abilita l'uomo prudente ad immaginare mezzi per ogni fine che ogni virtù particolare vuole attingere. Lei anche rende capace di confrontare queste scoperte per preparare la scelta più prudente. Immaginare mezzi e giudicare la loro pertenenza fanno appello a qualità distinte, di modo che ci vuole radicare il discernimento facile del mezzo migliore immaginato in una virtù ad hoc, la quale i greci chiamavano synesis, ma che in italiano si può semplicemente chiamare discernimento. Questa virtù di discernimento basta nelle situazioni normali, pure, così come le relazioni con altrui affrono situazioni sconcertanti che accedono tutta definizione legale e obbligano l'equità a sostituire la giustizia, così la vita felice incontra casi la cui complessità richiede di contrariare le regole comuni. Per discernere adeguatamente la loro soluzione ottimale, una virtù di discernimento più alta si impone, la ponderazione. Il discernimento dei discernimenti, si può dire, come l'equità costituisce la giustizia delle giustizie.